Buon pomeriggio a tutti, la torcia che avete in mano funziona in questo modo, dovete far girare la manuella se non si accende e schiacciare forti e circostanti che sta in sua torta. Benvenuti nella casa idea che è stata realizzata con un designer italiano, si chiama Lorenzo Damiani. Questa casa sposa il concetto che avete trovato in questa rivoluzione del frattatale di Milano, che è quello dei miei fatti trasformabili. Quindi il designer ha voluto esprimere molti modi per poter utilizzare i nostri mobili. Quindi questo concetto è abbastanza nuovo, è esibile in questa casa, è una casa concettualmente trasportabile, tant'è che se uscite e vedete sul tetto che ci sono due maniglie. Tutte le superfici di questa casa sono coperte da sistemi modulari di questa casa.